Ultimi fuochi della campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi. Ieri sera a Napoli la chiusura del Movimento 5 Stelle con Valeria Ciarambino. Oggi abbiamo ascoltato l'ultimo appello dei candidati irpini. Perché votare Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali? Perché il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica libera, con le mani libere, che non ha mai creato problemi a questa provincia e che anzi si propone come forza politica propulsiva, attiva, in grado di risolvere le tante questioni che sono rimaste sul tappeto, che gli altri partiti in tutti questi anni hanno creato. Penso sia al governo Caldoro prima, penso al governo De Luca dopo. Dateci fiducia e abbiate coraggio. Perché votare Carmen Bocchiccio? Le persone mi conoscono, sanno il percorso di coerenza e di fedeltà che io ho fatto innanzitutto alla provincia di Avellino e poi al Movimento 5 Stelle, che ringrazio per avermi dato la grande opportunità di dare il mio contributo. Votare me significa dare una possibilità concreta all'Irpinia di entrare in consiglio regionale e di portare le istanze che tutti i cittadini in questo periodo mi hanno consegnato. Con Carmen Bocchiccio, consigliera regionale, l'Irpinia tornerà ad avere voce. Perché votare Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali? Bisogna votare Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle governa questo paese con onore, perché ha espresso un presidente del Consiglio come Giuseppe Conte, il cui valore è stato riconosciuto da tutto il mondo, da tutta l'Europa. Bisogna votare Movimento 5 Stelle perché abbiamo una candidata presidente come Valeria Cerambino di grande valore, l'unica voce di opposizione vera e reale negli anni scorsi. Perché votare Vincenzo Ciampi? Votare Vincenzo Ciampi perché si vota una storia, si vota un percorso, un percorso di attivismo sempre tra la gente degli ultimi dieci anni e si vota un ex sindaco, il primo sindaco del Movimento 5 Stelle e finora unico di un capoluogo di provincia del sud Italia. Generoso Testa, perché votare il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali? Beh, sembra quasi scontato questa risposta, ma in realtà è proprio così. Votare Movimento 5 Stelle significa votare l'unica alternativa valida in queste elezioni regionali. Il numero di liste che è presente nel centro-sinistra, non ricordo, mi sembra che siano addirittura 15, ormai ho perso il conto, e non sono poche neanche nel centro-destra, fa capire la paura di perdere dei nostri competitors, degli altri partiti. E noi diciamo di votare il Movimento 5 Stelle perché siamo persone che hanno un grande curriculum e che hanno messo a disposizione la loro professionalità. Perché votare Generoso Testa? Beh, perché dopo tantissimi anni, oltre al lavoro, dedicati a quelle che sono state attività difesa del cittadino, vorrei mettere a frutto la mia esperienza e quindi fare in modo che la Regione possa dare un supporto reale, fattivo, vero, concreto per aiutare le persone, i cittadini della nostra provincia. La nostra provincia ha bisogno di essere supportata in Regione perché non abbiamo avuto un rappresentante davvero capace che possa aver portato avanti le stanze di noi cittadini. Perché votare Mauro Asarno? Perché votare il Movimento 5 Stelle? Ma votare il Movimento 5 Stelle è perché è la speranza, è la speranza che non dobbiamo mai abbandonare. Purtroppo già sappiamo come hanno amministrato i nostri danari, le nostre speranze, le nostre terre. Già sappiamo come hanno amministrato, hanno fallito. Siamo la porta più assoluta, quindi il cambiamento è il Movimento 5 Stelle, quindi votare il Movimento 5 Stelle. Perché Mauro Asarno? Perché Mauro Asarno è una persona che non ha bisogno di andare a prendere una poltrona, sicuramente. Io ho un lavoro che mi piace tantissimo, però in questo momento mi sono messa a disposizione della comunità. Stateci vicino, non ci abbandonate. Senza di voi non ce la possiamo fare.